E allora le foibe? Beh, è difficile dare una risposta a questa domanda, è una risposta complessa che prevede di inquadrare il fenomeno delle foibe e dell'esodo nel loro contesto geografico e storico. Io ho scritto questo libro cercando proprio di raccontare nella maniera più chiara e sintetica possibile questi drammi della storia del Novecento, su cui si fa molta strumentalizzazione politica, molto uso pubblico, ma in realtà si conoscono poco. E quindi mi rivolgo non tanto agli studiosi, ma proprio alle persone normali, alle persone che magari ogni 10 febbraio, ogni giorno del ricordo sentono parlare di questi temi, ma non capiscono esattamente di cosa si tratta o hanno comunque le idee confuse. E quindi il mio tentativo è cercare di chiarire quelle idee con un libro semplice, agile, ma che comunque racchiude tutti i principali risultati della ricerca scientifica su questi temi. Grazie. 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 Grazie.